Continuate a svolgere la vostra delicata opera spinti dalla carità, attenti alle necessità dei vostri piccoli pazienti, chinandovi con tenerezza sulle loro fragilità. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto al personale medico e amministrativo dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini, subito dopo aver offerto la sua personale carezza ai bambini dei vari reparti. Una visita breve ma immancabile in questa fitta giornata nel capoluogo Ligure, in quello che il Cardinale Arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, ha definito un santuario del dolore, il Pontefice ha asciugato le lacrime dei presenti e ha rimarcato che la sofferenza dei bambini è la più dura da accettare. Ricordando l'atto d'amore del senatore Gerolamo Gaslini, che fondò la struttura per ononare la figlia morta in tenera età, spogliandosi di tutti i suoi beni, Papa Bergoglio ha auspicato che possa continuare ad essere in Italia e nel mondo, simbolo di generosità e solidarietà. Grazie a tutti.